La riunione di ieri ha confermato che sono primarie di coalizione alle quali partecipa oltre il Partito Democratico con i suoi candidati, l'Italia dei Valori con il suo candidato Di Nardo, i socialisti e chiunque altro ci voglia essere fino alla fine. E' partita anche la macchina organizzativa, c'è una oggettiva difficoltà dalla data fissata che coinciderebbe con il plenum del Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato, ma io credo che al di là di soluzioni straordinarie che possono sempre esserci in politica, ci avviamo decisamente alle primarie di coalizione per scegliere, così come è avvenuto in Liguria, magari con qualche difficoltà, ma con il risultato conseguito, chi sarà il candidato presidente del centro-sinistra. Il senatore Ennello Di Lardo, segretario regionale, fa il punto della situazione. Con lui anche Anita Sala, caporuppo di via al Consiglio regionale della Campania. Si fanno certamente, ieri abbiamo avuto un incontro con i tre partiti che partecipano alle primarie di coalizione, c'è l'Italia dei Valori, il Partito Socialista e il Partito Democratico. Abbiamo stabilito anche delle regole, perché è chiaro che in questi giorni avevamo anche la necessità di avere la presenza dei seggi che già sono stati costituiti dal Partito Democratico. Abbiamo insieme stabilito di fare a Napoli una grossa manifestazione dei tre partiti delle primarie di coalizione, una manifestazione che vedrà sicuramente la partecipazione di tutto il centro-sinistra. Quando riguarda l'Italia dei Valori stiamo lavorando per mettere insieme il centro-sinistra, perché riteniamo che per vincere c'è la necessità, c'è l'obbligo di stare tutti quanti insieme, altrimenti si corre il rischio di perdere.